L'ordinanza di custodia cautelare che questa notte è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante è il frutto di un'indagine che ha permesso di sgominare un sodalizio criminale dentro ai furti e alle rapine. L'attività investigativa ha consentito di identificare soggetti come gli autori di un furto in appartamento poi tramutandosi in rapina, ma soprattutto ha permesso di scongiurare che portassero a termine un'altra rapina pianificata ai danni del proprietario di un supermercato che attendevano sotto la propria abitazione con l'intento di rapinarlo dell'incasso della giornata. Grazie a tutti.